Scusate, c'è una locanda qua attorno. Hai saputo qualcosa? Molto poco. Che ti ha detto? Non ha parlato. Era muto? No, signore, non esattamente. Anzi, direi che a modo suo era estremamente eloquente. Davvero? Certo, senz'altro. Ma di un'eloquenza piuttosto funebre, mi sono spiegato. 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 Ma di un'eloquenza piuttosto funebre. Ma di un'eloquenza piuttosto funebre, mi sono spiegato. Ma di un'eloquenza piuttosto funebre, mi sono spiegato. Ma di un'eloquenza piuttosto funebre. Ma di un'eloquenza piuttosto funebre, mi sono di una vita molto ruppente. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti